Sono Caterina Michelucci, vi porto oggi a conoscere il Centro La Luna e il progetto che SNITECH con Share4Good ha deciso di sostenere. Sono un'operatrice del Centro Antiviolenza Luna. L'associazione Luna nasce nel 1999 da un insieme di donne che proprio condividendo e raccontandosi hanno iniziato a scoprire come per molte di loro era comune il vissuto di violenze tra le mura domestiche, violenze psicologiche, fisiche e a volte anche economiche. E così nel 2008 ci costituiamo come Centro Antiviolenza e ci occupiamo di accogliere le donne che subiscono violenza domestica fornendo l'opportunità di effettuare dei colloqui di supporto psicologico, consulenze legali gratuite, colloqui di supporto all'orientamento lavorativo e in alcuni casi andiamo anche ad offrire l'accoglienza nelle nostre case ad indirizzo segreto. Il progetto riparto da me, sostenuto da Islove Foundation, intende offrire alle utenti del centro e delle case rifugio un percorso di orientamento per inserirsi nel mondo del lavoro. Conosco il centro da anni grazie a una cara amica che è psicologa e psicoterapeuta e ho deciso di candidarlo per l'iniziativa aziendale Share for Good. Una volta superata la fase iniziale di emergenza fornita alle donne una possibilità di un ambiente sicuro e lontano dai rischi, qui si inizia a pensare a quelle che potrebbero essere le fasi successive. Infatti purtroppo oltre a una violenza fisica e psicologica si accompagna anche quella che viene definita una violenza economica e l'obiettivo è quello di restituire alle donne sicurezza e indipendenza anche sotto il profilo economico. Questo è possibile grazie a specifici percorsi e anche corsi di formazione e a uno sportello che viene fornito per il reinserimento nel mondo del lavoro.